Ciao a tutti. Ho appena finito la partita in cui sono morto per colpa delle uova di Pasqua. Quello che state sentendo sono delle scorreggie fatte con un suono audio speciale che non sto facendo io perché è impossibile fare così tante scorreggie. Ho imparato a fare i sound. Comunque continuamente lo rimetto e così siamo morti. Vabbè, basta, basta, basta. Oh, raga, raga. Oh, il nostro amico ProGamer si è unito al gruppo. Raga, comunque... Eh, sì, ProGamer. In realtà io ora sto registrando. Se vuoi puoi fare un video con me. Ok, io, raga, vado in lobby perché oggi voglio fare una vittoria reale con ProGamer. No, io preferirei fare subito la 200 level d'Ether. Comunque, raga, non lo sentite per un motivo. Io ho avuto un problema per le cuffie. Ok, raga, come potete vedere mi sono... Ho scioppato il pass, ve lo ripeto, se non avete visto il video in cui mangiavo la cioccolata. Ho scioppato il pass con Agente Jonesy e altre skin. No, Carlo non ce l'ho, vabbè. Sì, quel balletto ce l'ho, il balletto ce l'ho. Ma tu... sì, quel balletto ce l'ho, ma tu hai questo balletto? Eh, eh. No, bellissimo. Vabbè, eh, purtroppo ProGamer ancora non ha scioppato il pass perché non ha giocato tanto. Oh, Gigi, è a livello 16. Sì, vabbè, lui è a Corvo perché, raga, lui mi sa che giocava dalla season 1. Metto pronto. Season 7, capito? Allora, lui non è che proprio gioca dalla season 1. Da un'altra Switch ha iniziato nella season 1 ma non gli piaceva. Quindi poi ha smesso. Poi ha ricominciato nella season 5, capitolo 1. E ora continuo a giocare. Capitolo 2, sì. Quindi tu... Vabbè. Io ho iniziato a giocare nella season 1, capitolo 1. Quindi... Vero? Vabbè, no. Eh sì, infatti ho iniziato a giocare nella season 1, capitolo 1. Sì, perché... Vabbè, creativa, ma caricati, cioè... Io non lo so, raga. Io queste modalità le detesto. Però... Sì, sì, mi piace il corvo. Comunque guarda che non si sentono. Sì, la mia è piace John, sì. Però... Ah no, quella che ho messo ora non mi piace tanto. Perché... Boh, non mi piace un botto. Vabbè, questa è bella. Sì, corvo è fighissima. E poi costa un botto. Sì, sì, sì. Però... Sì, ho capito. Sì, sì. Sì, però... Ah, eccola, la 200 level datran. Sì, perché... Cioè, è una default level datran, ma... In realtà è difficilissima. A parte i primi livelli. Io sono arrivato... Raga, io sono riuscito ad arrivare solo fino al livello... 20... 30... 3... No, anzi, 34. Ah, dai, facciamo avvia partita. Avvia partita. Ok, fatto. Sì, lo so. Lo so, guarda... Che l'ho fatta 5 miliardi di volte la default level datran. È facile. Sì, sono... Capito. Ok. Livello 3, ma... Sono già morto a livello 3. Complimenti. Sono proprio più forte di ninja. Ma basta! Sono un bot. Ah, sì, non bisogna correre. Giusto, giusto. Tattica del bot. Non correre mai nelle lezze. Cosa? Ah, vero, vero. È tipo barare, però. Ah, sì. Vabbè, ma sono un bot. Ok. Sì, ok. Sì, ok. Sì, puoi andare. Vabbè, sono morto. Livello 5. Raga, io raga, sono abbastanza forte. Anche se gioco dalla season 1, sono un po' bot. Non so perché. Vabbè, livello 6, io sono un pro in queste cose. A parte in questo momento, in questo momento ho un po' sbagliato. Sì, lo so. Ok. Ma dai! Ah, sì, lo so. Guarda che... L'ho già fatta, sta Dead Run. Un bot di volte. Qua si muore! Vabbè, raga. Io, raga, poi uso l'einbot. Poi uso l'einbot. Ma livello 7 è facile, dai, bro. Io lo faccio, quello. Ma come faccio a morire in quel buchetto, raga? Io stoppo il video. Poi ricomincio. Ok, raga. Dopo due tentativi ce l'ho fatta. Ok. Livello 8, easy. Questo è easy, questo è easy. Questo è easy. Come? Ok, livello 9. Questo lo so fa... Ah, sì, bisogna aspettare, bisogna aspettare. Sì, sì, scusa. E dai, ma non vale. Lo so, eh, guarda. Oh, grazie. Ok, questo è easy, easy. Mega easy. Mega easy, super mega easy. Anche questo è easy. Bam, bam. No, questo è mega easy. Guarda, bisogna passare in mezzo, semplicemente. Questo invece è mega. Non è affatto easy perché sono morto. Ok, io stoppo per... Dopo fare i tentativi sono già a livello 15. Ok. Vabbè, ok, questo... No, questo è easy. Ok. Ah, sì, sì, io ti aspettavo... Sì, tu mi aspettavo, in effetti. No, vabbè. Sono... No, questo io non lo so fare. Ah, sì, 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 sì. Ah, sì, sì. Ah, sì, la tattica che mi ha insegnato. Boom. Ecco, fatto. Ora bisogna aspettare qua. E poi, sì, ce n'è anche una sotto, lo so, eh. Ok, questo non lo so proprio fare. Correre. Sì, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sì, ti aspetto. Sì. Eh, scusate. Sta finendo. Sì, ti aspetto, ti aspetto. Intanto faccio due balletti. Anzi, faccio pure uno spare di Mandalorian. Così tutti sanno che Mandalorian... Sì, sì. Ok, questo lo so fare. Boom. Oh! Mamma mia. Ah, quando... Sì, ce l'ho fatta. Te lo triggero tutti perché... No, ti aspetto. Voglio fare solo questo livello figo. Questo è troppo figo. Ok, ti aspetto ora. Sì, questo è anche... Sì, questo... Ok. Sì. Sì. Vabbè, no, no, ce la faccio, ce la faccio. Sì, sì, ho capito. Però non lo voglio fare nel modo in cui hai fatto tu. Faccio così? Oh, mamma. Questo non lo so proprio fare. Così. E poi si muore. Era così che bisognava fare. Vabbè. Sì. Raga, ditemi come si fa questa cosa. Spiegatemelo voi. Io non so nemmeno dove stai. Un po' di sound. Ah, ok, devo aspettare. Quindi, raga... Ok. Aspettiamo un po', raga. Ok, raga, questo... Questo è sound result. Ho aspettato, raga. Lo sono morto. Ragazzi, ora ci provo. Spengo un po' e ci riprovo. Ok. Ok, raga, ce l'ho fatto. Sì, questo ce l'ho fatto. Questo ce l'ho fatto. Cio. Ma comunque questa non la facciamo tutta. Non facciamo tutta la Detran. Perché poi io sto già registrando da 12 minuti. Potresti fare un po' meno rumore, nonno. Perché io sto registrando un video. Sì, questa qui, la 32. Sì, questa è abbastanza difficile. L'ho triggerata, ma poi sono... Sai che c'è il modo per restare qui nella 32 per 5 anni? Intanto Paolo. Ma ok. Io una volta sono stato lì per 8 ore praticamente. C'è Mandalorian lì. Ok. Come ho fatto a sopravvivere? Sono al 32. Ma sì, ancora là. Ma sì, triggerarla. Eccoce l'ho, Atta. Questa è difficile per i bottazzi, come te. E anche per me. Sì. Ok. Dai, è l'ultimo. Ho fatto il primo salto, ma poi al secondo sono morto. Raga, noi arriviamo fino al livello 40. No, guarda che io ho la memoria. Ho il problema della memoria e sono cascato. Avevo premuto B, raga. Ma... Ma cosa mi sono dimenticato di dire in questo video? Ma sono matto. Supportare un codice FrestiWare. Ma raga. Se non lo supportate non so come avete fatto una vittoria reale. Vita vostra. È impossibile. Vabbè, me... No, non ce l'ho fatta. Comunque, raga. Ma dai, ma dai, ma... Raga, io fermo, poi ricordi. Raga, ci siamo bloccati a livello 33, quindi abbiamo abbandonato. Ovviamente. Io intanto mangio un po'. Vabbè, lui ha ottenuto una nuova scilla. Io intanto sto mangiando la soccolata della challenge. Io comunque ho 100 V-BAC. E tra poco dovrei ottenere un balletto. Tanto... Tanto io ho il pass. Se arrivo a livello 100 posso ottenere... L'assassina della Guglia. Io otterrò di sicuro perché sono... Perché ho il pass. E sono sicuro che... Sì, sì. Concentrazione. Ok, allora no. Ma com'è? Allora Alexa, 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 Alexa. No. Non fa paura a concentrazione. Io comunque preferisco Alexa. No, io voglio mettere McNight quello con i baffi. McNight con i baffi. Sono McNight con i baffi. Allora, se vi piace McNight con i baffi, iscrivetevi al canale ovviamente. Ciao. Ciao.